L'albero di città, una manifestazione istituzionale nazionale che quest'anno nel Regino ha visto protagonista l'istituto comprensivo Radice Alighieri del quartiere di Catona, Reggio Calabria. Perché in questa scuola che si è svolta la giornata nazionale degli alberi, celebrata ogni anno ed in tutto il paese dall'Arma dei Carabinieri, che peraltro vi coadiuva interventi di educazione alla legalità ambientale, appunto nelle scuole, e la messa a dimora di piante autoctone. Inoltre, adesso, gli alunni dell'istituto comprensivo potranno leggere il nuovo articolo 9 della Costituzione scolpito su una targa in legno donata proprio dai Carabinieri forestali insieme appunto alle piante autoctone di genere Farnia. Anche la manifestazione di quest'anno si colloca nel progetto nazionale Un albero per il futuro, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, e che ha come tema l'importanza del verde urbano appunto per il recupero delle aree più degradate, delle nostre città, dei nostri quartieri, delle aree urbane in generale, e il tutto nel segno del novellato articolo 9 della Costituzione, che come ormai è noto, ha promosso l'ambiente, la biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la tutela degli animali a beni costituzionali. Curiosità diverse e numerose sono state le iniziative organizzate dai Carabinieri forestali in tutta la regione, volte appunto a sensibilizzare le comunità verso il rispetto dell'albero e del verde cittadino. Per esempio, la città metropolitana di Reggio Calabria ha ricevuto come messa a dimora una collezione di essenze forestali autoctone prodotte dal reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve di Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Alla manifestazione regina hanno partecipato il comandante della legione Carabinieri Calabria, il generale di divisione Pietro Salsano, ed il comandante provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, il colonnello Cesario Totaro. L'evento poi è culminato con la benedizione dell'ultima delle piante messe a dimora alla presenza di Don Francesco Sicleri, in rappresentanza di Sua Eccellenza Monsignor Fortunato Murrone, l'Arcivescovo di Reggio Calabria a Bova. Ed infine, nel corso della stessa manifestazione, c'è stata una diretta streaming con l'aula magna del complesso di Scampia dell'Università Federico II di Napoli, dove appunto si è tenuto un convegno nazionale finalizzato a presentare il progetto L'Albero Cittadino. Grazie a tutti.